Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Siamo ufficialmente nel pieno del clima natalizio e Nintendo ha fatto partire dei corposi sconti sull'eShop. Come al solito lo store digitale di Nintendo Switch ha un vero inferno da navigare e con oltre 900 titoli in sconto è facile sentirsi disorientati, ma non vi preoccupate perché oggi vengo in vostro soccorso e dopo aver passato in rassegna tutte e 74 le pagine dei giochi in offerta, me ne sono uscito con un bel listone dei giochi in saldo sotto ai 10€ che secondo me vale la pena recuperare per passare questo Natale in zona rossa. I titoli che vi proporrò oggi sono tantissimi e quindi ve ne darò solo dei brevi accenni, vi aspetto nei commenti per sapere se avete altri giochi da segnalare o se avete qualche curiosità da chiedere a proposito di qualche pubblicazione in particolare. Se invece siete interessati alle edizioni fisiche dei giochi vi invito a unirvi al gruppo Telegram delle Offerte Poracce dove segnaliamo i migliori sconti su Amazon relativi a Sony, Nintendo e Microsoft. Vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo da un genere che negli ultimi anni è decisamente tornato di moda, quello dei cinematic platform. Little Nightmares Complete Edition è uno degli esponenti più recenti, scontato a 8,79€, un ottimo recupero aspettando il sequel di prossima uscita. Andando sul classico troviamo due capostipiti del genere, come Flashback e Another World in versione modernizzata, disponibili il primo a solo 1€ mentre il secondo a 3,99€. Palesemente ispirato a questi due titoli c'è il più recente The Wear Remastered, bello quanto difficile, acquistabile per soli 0,99€. Passando ai titoli indie che negli ultimi anni hanno saputo raccogliere tantissimi consensi da parti di critica e pubblico, impossibile non citare Crypt of the Necrodancer a 3,99€, un roguelike con meccaniche di gameplay prese direttamente da un gioco musicale, Moonlighter a 8,49€. Altro roguelike questa volta con un gameplay ibridato da un gestionale dove dovremmo badare ad un negozio, The Escapist a 2,99€, Into the Breach, il seguito spirituale di Faster Than Light che ci vedrà prendere parte a delle battaglie su una griglia 8x8 tra Mac e Kaiju a soli 7,49€. Proseguiamo con uno dei miei generi preferiti in assoluto, ovvero i Metroidvania. Imperdibili due guacamili, il primo a 4,19€ mentre il secondo a 5,99€ e entrambi dei simpaticissimi Metroidvania completamente fuori di testa con un combat system di una profondità per nulla scontata. Se cercate invece un'esperienza decisamente più punitiva e longeva, allora il nostalgico la Mulana farà al caso vostro per soli 8,99€. Poi lo sapete, devo consigliarlo ogni qualvolta ce ne sia la possibilità, ma Yoko's Island Express a 4,99€ è un acquisto obbligatorio, un art style fantastico e un gameplay a metà strada tra un Metroidvania e un flipper per un prodotto finale che saprà divertirvi dall'inizio alla fine. Per gli amanti leggere PG, come non consigliare l'immortale Final Fantasy VII a 7,99€, titolo ancora oggi attualissimo visto l'arrivo di Sephiroth su Super Smash Bros. Ultimate, e il molto più leggero Golf Story, una vera perla indie carica di un umorismo sopra le righe disponibile per 7,49€. Se siete degli amanti degli action in tre dimensioni, io la butto lì e vi consiglio i primi due Devil Mc Cry disponibili a 9,99€ l'uno. Il primo non è certo invecchiato nel migliore dei modi, ma è un titolo che va assolutamente giocato almeno una volta nella vita, mentre il secondo, beh, è il perfetto esempio di come non fare un sequel. Gli appassionati di action-adventure e platform 2D avranno l'imbarazzo della scelta. Ispirati ai classici Castlevania pre-Symphony of the Night, abbiamo i due Bloodstained Curse of the Moon a 4,99€ e 9,74€ rispettivamente, due acquisti imperdibili se siete appassionati degli action vecchio stampo del periodo 8-bit, ben più moderno, ma non per questo di minor valore, c'è lo stealth Mark of the Ninja a 4,99€ e il cattivissimo Super Meat Boy a 5,19€, senza dubbio uno dei platform più difficili che vi capiterà di giocare nella vita. Molto più tranquilla e story-driven, un'esperienza come quella di Yotun, adventure ispirato al Pantheon Norreno, scontato a 2,99€. E poi entriamo nella zona remaster e remake. Scente Risky's Revenge Director's Cut a 4,19€ è un tuffo nel passato della saga di platform, un titolo un po' grezzo ma ancora oggi divertentissimo. Per soli 0,99€ acquistate senza pensarci due volte il remake di Toki, storico arcade dalla difficoltà brutale, qui riproposto con una grafica nuova di zecca ma con lo stesso gameplay che lo rese celebre in passato. E idem per Wonder Boy The Dragon's Trap, che per soli 7,99€ vi permette di rivivere in una veste grafica completamente riscritta da zero un classico dell'action-adventure degli anni che furono. E se sentite nostalgia di uno Zelda a vecchio stampo, beh allora non lasciatevi sfuggire Blossom Tales The Sleeping King a 5,24€, forse un titolo eccessivamente derivativo, ma che saprà tenervi impegnati per una decina di ore abbondanti. Entriamo nella macro categoria delle avventure grafiche e anche qui abbiamo tantissimi esponenti. Machinarium a 3,74€ è consigliato, soprattutto se siete rimasti impressionati da Happy Game durante l'ultimo Indie World. State of Mind a 3,99€ è un'avventura grafica con una production value tutt'altro che modesta che ricorda le atmosfere di Blade Runner, mentre Sayonara Wild Hearts è una sorta di lisergico rhythm game interattivo che saprà rapirvi col suo stile inconfondibile, scontato a 7,19€. Discorso a parte per la divertente saga di Deponia, il primo titolo è in sconto a 3,99€, mentre il secondo e il quarto sono in saldo a 1,99€ l'uno. Peccato che il terzo episodio, Goodbye Deponia, sia ancora a prezzo pieno, il che rende difficile godersi tutta la quadrilogia. Il mio consiglio è di recuperare intanto questi tre titoli, giocare i primi due ed aspettare che l'ultimo tassello venga scontato a sua volta. To the Moon, a 8,39€, è considerato come uno dei giochi più emozionanti degli ultimi anni, mentre a Short Hike sembra l'avventura perfetta da godersi in questi giorni pieni di preoccupazioni e incertezze, a soli 5,59€. Chiudiamo con due giochi molto più pesanti e impegnativi, ovvero l'Amnesia Collection a 5,59€, che racchiude i primi tre capitoli della famosa serie survival horror in prima persona, e la particolare avventura grafica What Remains of Edith Finch in sconto a 5,99€. E per finire, due titoli bonus. Zelda Mage ha solo 1,79€, un gioco di combattimento tra veicoli che i nostalgici dell'era PS2 Gamecube ricorderanno con piacere. E il brawler meme-centrico Fight for Animals ha soli 6,29€, un gioco che si lascia commentare da solo. Poracci, quindi che ne dite? Comprerete qualcosa su eShop? Avete altri titoli da segnalare? Come al solito vi aspetto nei commenti. Prima di salutarci vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poroshop, Michele Saldi, ciao!